A 10.000 like Invitiamo a Cardi B a casa nostra E in questo video E lo chiediamo Dovete condividere un sito E faccio arrivare 10.000 like Noi portiamo qui Cardi B e testiamo le cose E benvenuti a questo nuovo video di X E facciamo un nuovo video sulla realtà Oggi facciamo una nuova challenge La bomba o la pasta Sì passata di moda Però comunque io lo faccio le cose Meglio tardi che mai nella vita O meglio tardi che mai Attenzione se si parla di verdure Oggi abbiamo reclutato un po' di foto Da La prima è già farina Scusate E niente Iniziamo subito con il proprio ganso Dai forse Loredana per te Loredana per te Bombi o passi Bombi o la passi Sì vabbè che il gusto della milf Però troppo Troppo Però devi dare una giustificazione Perché no Ah non ce l'ho detto Troppo Troppo anziana Io Io passo Adesso tutta la giustificazione Perché la giustificazione è E che è molto classificata Ma a me se è a prendere un Un dick in bocca Capito Non la metto questa parte E' pronto a mettere qualcosa La bocca aperta Quindi Ma la passo lo stesso Perché come detto Lei è troppo vecchia A me se le fosse troppo Vabbè Le fosse troppo vecchia Perché il bocca non è lasciare No Passiamo Violet SG Violet SG Che è l'attuale Suicide Girl Violet Bombi o la pazzi No bombi vai Allora ragazzi Comunque stiamo vedendo questa foto Ma comunque Bombi veloce Ci sono altre foto Anche io la bombo Adesso quella La tezza ragazza Violet L'ex ragazza di Dexter Vedendo la nevita di Dexter Direi bombo No io no Ti scordi Ma lo metto Core e Marilu Ragazzi Ma il collegio No 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 Io bombo Non ci sa mai Para Ferragni Vabbè Solo per diciamo I follower Cosa varie Certo ovvio Mi scusa No io non la bombo Nenche col cazzo di Fede Non la bombo Nenche col cazzo di Fede Allora io non la bombo Perché Una cosa è secca Ce la tira troppo C'è ciò La massa A me se vuole Qualche ragazza Decisa La ragazza è giusta Ok Quella che sta vedendo questo video Può essere Comunque se mi cercate Poi Fishball Su Sidegirl Un'altra su Sidegirl L'ex di Madman Fishball Dai No 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 Non la bombi Perché tu non l'hai visto Non l'ho visto altre foto Ma non hai detto tu Ma è la bomba Non male K-Licious Allora K-Licious No 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 Vabbè si si dai Allora io non la bombo Vabbè ma Qua stiamo parlando Diciamo proprio Di esprimere proprio La massima Voglia no Allora io la passo Perché si mette Due chili di stucco Di stucco Di stucco Un stucco Quello da mettere nelle pareti Di trucco Lion Allora Non si parla di ragazze Attenzione Se tu fossi ma Femmina Allora se io fossi femmina Io a Lion Sì me lo farei buttare Allora io a Lion La bomba Non ci sono Niente spiegazioni Comunque ragazzi Alla fine del video Ci sarà una sorpresa Attenzione Sco Falli Ludovica Ah falli È una influencer Di Instagram Direttamente La bomba e la passo Bomba Bomba Ludovica Pagani Ludovica Pagani Sta facendo strada Su Youtube Proprio come se non ci fosse un domani Comunque Sì vabbè certo dai Perché non rispondo Ma io la bombo È normale Arisa No 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 C'è il quarto Ma chi è Cioè Proprio alla fronte C'è chi è sto trucco Non la scoperei Nenche quel cazzo di nato Ah poi è la francese No 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 Ah poi è la francese Eh la francese Sì Francese Ariana Grande Che sta superando Ariana Grande Che ha raggiunto Il primo posto su Instagram Per follower Brava Ariana Grande La bomba e la passo Scusa per i follower Diciamo Comunque per il fisico Sì sì La bomba Basta che è vagina munita Pagani 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 E dai come si fa Follettine creation Che nostra compa è sana Compa è regionale Sì Vabbè Passiamo avanti Passiamo avanti Bella F Sì certo Bomba Valentino Nappi Valentino Nappi Attenzione Però qua c'è un problema Il fisico Il fisico è a posto Però è un po' il Passato E non è di pomodoro Io direi una cosa Valentino Nappi Secondo me nel momento in cui si dovrebbe fare Quell'atto diciamo Fatto di violenza Violenza Cheat C'è Non lo so Il buco dell'ozono Mi ritrovo A posto del culo Mi ritrovo un buco dell'ozono Abberto così C'è il cichetto di dentro proprio Sì sì Che poi Appena entra il mio membro Fa il Giacomo e Giacomo Quindi No ma era passo Vabbè però Poi lo siamo Per il fisico Comunque sì Marzia Pai Marzia Pai Ah vero Marzia Pai Il diciamo Finanzata Attuale Finanzata Del primo youtuber al mod Cioè appunto Più di vai Vloggeri che vuoi Allora Io la bombo Per i numeri per tutto Però bombare significa Farla sotto a una sera Cardi B Cardi B Vai Tu cosa fai Bombo No ragazzi Non ce la faccio Cioè Stai bombandissimi Licone dai Tutto me Tutto me Allora Dicimi a like Invitiamo la Cardi B A casa nostra In questo video E lo chiediamo Dovete condividere Questo video Faccio arrivare 10.000 like Noi portiamo Qui Cardi B E testiamo le cose Però viene Non verrà caricato Su YouTube Per altri siti Come XNXX Quelle formate Kokeshi Si dai Di letta le otta Di letta le otta Allora Però devo dire Allora Ti dico una cosa Ci va Enzo Dong E se la vuole bombare Ci va Due pequelli E se la vuole bombare Allora E Travolghi Il sogno Ultrasessuale Diciamo degli italiani Però Troppo Si mette troppo in modo Allora io direi La bombo Ma Comunque deve essere lei A essere proposta A bombare me Allora Ma poi siamo Qua siamo In un mondo ipotetico In cui si deve bombare Qualsiasi cosa Sorpresa Sorpresa finale Per un ospite Speciale No spoiler No spoiler No spoiler Il cardino Il cardino di PewDiePie Il cardino di PewDiePie Ovviamente C'è proprio Non Tu invece C'è Ragazzi C'è Come fai Bombiamo Tutte 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 PewDiePie Il cane Marzia Una cosa qua Sì Vai 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 Quindi ragazzi Il video È finito È finito Se non vi piace Mettete lo stesso Mi piace Perché vi deve piacere Per forza Vuoi fare un saluto finale Personale Non lo so Ragazzi No spoiler Chi non condivide Questo video È uno sbirro E razzista Di merda Quindi alla fine No Spoiler No spoiler Ci vediamo Alla prossima Video Alla prossima Alla prossima No Mi Po Grazie a tutti.